Buongiorno, adesso andremo a trattare un paziente con il metodo della chirurgia non ablativa, quindi con il Plexer, un metodo ideato dal professor Giorgio Fippi, è una chirurgia assolutamente in dolore, ho posizionato l'anestetico locale alle zone da trattare, sono tutti nevi congeniti, quindi che il paziente riferisce di avere dalla nascita del volto, sono nevi benigni e pertanto noi ci possiamo avvalere della tecnica della metodica di chirurgia non ablativa, dove andremo a vaporizzare il tessuto e quindi andremo a trattare con il miglior residuo estetico in assoluto per il paziente. Laddove c'è il sospetto di una lesione precancerosa o cancerosa, l'indicazione principale è l'asportazione chirurgica in anestesia locale con esame estologico. Andiamo un secondo a vedere le lesioni che oggi invece andiamo a trattare con il Plexer, che sono lesioni tutti nevi congeniti e quindi benigni, di questo paziente di 26 anni. Ho appena rimosso la pomata anestetica locale posizionata 20 minuti prima circa sulle lesioni che andremo a trattare con il Plexer e adesso vedremo come si fa. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. In questo momento abbiamo finito di trattare il paziente con il Plexer, i nevi congeniti che aveva si sono vaporizzati ed è residuata una crosta che altro non è che un residuo carbonioso che io in questo momento mi vado a coprire con un fondotinta, cioè il paziente esce da studio con il fondotinta ad alta protezione. perché oggi è una bella giornata fuori c'è sole e comunque si chiederà sempre al paziente di applicare il fondotinta almeno due volte al giorno, la mattina e mezzogiorno dopo aver disinfettato bene la parte, le parti trattate con mezzo alcune per uno. Ecco, questo è il fondotinta che noi andiamo ad apporre sulle lesioni che abbiamo trattato. Il paziente è stato bravissimo, non si è mosso per nulla, anche perché grazie alla crema anestetica e a questo metodo si possono fare veramente tante cose belle con il massimo risultato estetico, con una restituzione ad integro del tessuto, trattato e con la massima soddisfazione chiaramente anche del paziente. Grazie a tutti.